Buongiorno ragazzi e oggi si spacca. Buongiorno. Speriamo che non sia qualche osso. Come? Siamo pronti dai che siamo in ritardo. Ah io fra, sei sempre il primo, adesso sei ultimo. Devi recuperare. E la vestizione sono pronta. Mi sono tirato io e ci sfugio. No, ok. No, ok. No, ok. No, ok. Fa arrivare la moto più velocemente. No, ok. No, ok. No, ok. No, ok. Esatto. Non sono così. Èissimo. Sì. Sì. No, ok. No, ok. Grazie a tutti. 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 Non andai indietro però. Grande. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Ciao. Scatenato. Come è andata? Fantastico. Grazie a tutti.